Allora, fratelli, senza alzarvi, prendete in prima Samuele 7 dal primo versetto. Allora gli uomini di Kiriat Yairim vennero, portarono su l'arca dell'Eterno e la collocarono in casa di Abinadab, sulla collina, e consacrarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca dell'Eterno. Da quando l'arca era stata posta a Kiriat Yairim, era trascorso molto tempo, erano passati vent'anni e tutta la casa di Israele si lamentava con l'Eterno. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo, Se tornate all'Eterno con tutto il cuore, togliete da mezzo a voi gli dèi stranieri Eleazarot e tenete il vostro cuore fermo nell'Eterno e servite a Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei filistei. Così i figli di Israele tossero via Baal, i Baal e le Asarot, e servirono solamente l'Eterno. Poi Samuele disse, radunate tutto Israele a Mizpah ed io pregherò l'Eterno per voi. Così essi si radunarono a Mizpah, tinsero acqua e la versarono davanti all'Eterno. Quindi in quel giorno digiunarono e là dissero, abbiamo peccato contro l'Eterno. Samuele giudicò i figli di Israele a Mizpah. Amen. Benedetta la sua parola. Dio aveva dato un comandamento a Mosè, aveva detto tu costruirai un'arca. Aveva dettato anche le dimensioni. Le dimensioni erano di una valigia piuttosto grande. Quest'arca doveva essere di legno di acacia, doveva avere gli anelli per le stanghe. Ma quest'arca conteneva la testimonianza, conteneva la legge del Signore. Quindi per Israele, per Israele l'arca era la presenza del Signore stesso. Perché? L'arca veniva messa nel luogo santo, nel luogo santissimo dove un velo lo separava dal luogo santo. Era il punto dove il sommo sacerdote andava a incontrare il Signore direttamente. Vi ricordate il padre di Giovanni Battista? Ve lo ricordate che entrò e rimase muto per la rivelazione che ebbe? Era il luogo. Quindi l'arca rappresentava per Israele qualcosa di estremamente importante. Rappresentava la presenza del Signore, la benedizione del Signore, la grazia del Signore. Tutto ciò che di Dio parlava nell'arca. Ed era qualcosa che Israele aveva ricevuto tramite Mosè dal Sinai e quindi per loro era qualcosa di importantissimo. Loro persero l'arca quando lo scellerato è lì. Questo sacerdote di Scilo insieme ai due figli commisero prostituzione sacra sull'altare e andando in battaglia contro i filistei l'arca rimase dai filistei. Però nonostante Israele fosse infedele i filistei non poterono tenere l'arca. Dio non lascia la sua testimonianza in mano agli immorali, agli impuri. E suscitò un'epidemia di emorroidi e stavano male, diversi morirono per la presenza dell'arca. Perché Dio voleva che l'arca tornasse, nonostante fossero infedeli, al suo popolo. Dio ha sempre amato il suo popolo. Dio ama noi come ha amato Israele, così ama te, così ama me. Ed è un amore fedele. Significa, come dice l'Apostolo Paolo, anche se io sono infedele, lui rimane fedele. Perché non può rinnegare se stesso. Noi non approfittiamo di questo amore. Il mondo, le persone che non hanno Dio approfittano dell'amore. Ma noi no. Noi godiamo dell'amore di Dio e rispondiamo a quest'amore con altro amore, con devozione, con onore e rispetto verso di lui. Ora, l'arca, i filistei la lasciano, vediamo dove va, vediamo i buoi dove vanno. mettono dei simboli d'oro, dei topi d'oro perché era il loro costume, cinque città e l'arca guidata, chiaramente, dal signore e buoi, vanno verso una città in Israele. Bet Shemesh. Ma lì non si comportano bene gli abitanti. Settanta di loro muoiono perché vanno a vedere dentro e non sono autorizzati a vedere. Spostano l'arca, arriva a Kiriat di Arim. Consacrono un uomo che deve servizio all'arca. Sta a una trentina di chilometri, più o meno, da Gerusalemme e l'arca sta lì per vent'anni. La cosa che dobbiamo domandarci e che voglio domandare a voi, vogliamo lamentarci per vent'anni? Questi si lamentavano vent'anni, si lamentavano, ma nel contempo, mentre si lamentavano, avevano i Baal e gli Astaroth. Cioè loro voleva, si lamentavano di un problema, ma conservavano gli idoli. E' come a dire, io mi lamento di questa situazione, mi lamento di questa circostanza, ma conservo degli idoli nel cuore. Baal era il signore delle mosche, figlio di El e di Astaroth. Asherat, Astaroth, chiamata Afrodite in greco, Venere in latino, era la dea della sensualità, dell'immoralità. Figuratevi, il popolo di Israele voleva il Signore, voleva le benedizioni di Dio e nello stesso tempo conservava di nascosto degli idoli nella propria casa. Noi notiamo che c'è una contraddizione, è vero? Tutti quanti noi notiamo che c'è una contraddizione, ma come? Tu vuoi essere benedetto e vuoi continuare a comportarti allo stesso modo. Tu invochi il Signore e vuoi e chiedi a Dio le benedizioni. C'è qualcosa che il popolo di Dio doveva aggiustare e che Israele capì. Ci vollero vent'anni, vent'anni per comprendere questo. Vent'anni per capire che c'era qualcosa che impediva la comunicazione del Signore. Vent'anni di te, sapete, l'idolatria è la nostra oggi, nel 2000, è l'ostinazione, l'incapacità di comprendere la volontà di Dio. Quella è l'ostinazione. Quando noi ci intestardiamo a fare le cose che Dio non vuole. Quando noi ci intestardiamo, quando noi anteponiamo le nostre idee, le nostre azioni, le nostre priorità alla volontà di Dio. Questa è l'idolatria, è l'idolatria. Perché di ogni cosa noi dovremmo dire, Signore, noi ti chiediamo questo, ma innanzitutto, prima di tutto, la Tua volontà. Anzi, io sto pregando così, di più adesso. Signore, qual è la Tua volontà? In modo che io prego come piace a Te. So che della volontà c'è nella parola. Prego per i perduti, prego per il bene dei miei fratelli, prego per i servitori, prego per la missione. Prego per i missionari, ma c'è una volontà che non conosco, perché non so come muovermi in tutte le situazioni. Ho una volontà generale e poi c'è una volontà particolare di come agire in tanti modi della nostra vita. E allora non la conosco. E allora ho bisogno di essere illuminato, di comprendere sempre meglio. Signore, sapete le persone idolatre cosa manifestano subito? La permalosità. Sono suscettibili. Non gli puoi dire mezza parola che subito la prendono. Perché? Perché la loro ostinazione fa sì che comprenda, che il loro modo di pensare lo sentano perfetto. Voi sapete che i perfetti non servono a me? Una persona perfetta non farà mai niente di buono. Il buono fa il buono. Perché essere perfetti significa essere così rigidi da non poter fare nulla. Da non poter fare niente. Se la perfezione è nella bontà, allora sì. Perché la vita ha insegnato a noi e penso a tutti quanti che quante volte dobbiamo in qualche modo superare, non sentire. Aspettare. Aspettare. Questa è la bontà. La capacità di aspettare. Quante volte Gesù ha detto io ho tante cose da dirvi ma non sono adesso alla vostra portata. Quella non è bontà. Cioè perché io devo caricare qualcuno di qualcosa che non può capire. Perché tu spiegheresti la formula della relatività a un bambino. Oppure spiegheresti l'ideologia o tante filosofie a qualcuno che non può capire. Sarebbe solo uno sfoggio della tua vanità mentale. E invece anche quella è bontà. Capire i tempi, saper parlare e sottomettere tutto alla sua volontà. Questo popolo, questo caro popolo che noi benediciamo, Dio benedica Israele. E la scrittura ci dice di pregare per la pace di Gerusalemme. E devo dirvi che nonostante io ci sia stato tre volte mi manca. E' l'unico posto dove mi piace sempre ritornare in Israele. E' molto bello. Perché lì c'è stato il nostro Signore. Allora ci vogliono vent'anni. Ora però in questo popolo c'è un profeta, c'è Samuele. E noi dobbiamo ringraziare Dio per tutti i servi. Amen. I profeti non sono mai troppo benvoluti. Ma Samuele era accettato, era accolto dal popolo, veniva dopo tanto tempo. Era stato dedicato. Sapete di chi era figlio Samuele? Anna, che aveva dedicato, che era sterile. Se mi darai un figlio io lo dedicherò a te, lo lascerò a te. E lui aveva vissuto all'ombra di un sacerdote anche non onesto. Me era rimasto fedele nella casa del Signore. E la dice la parola, la fiammella non si era spenta. Dio non aveva allontanato la sua benedizione dal suo popolo. Aveva già provveduto ad un uomo per guidare Israele. Dio avrà sempre qualcuno per aiutarci. Dio avrà sempre qualcuno per aiutare la Chiesa. Dio non lascerà la Chiesa mai da sola. Amen. Gloria a Dio, fratelli. Avremo sempre qualcuno vicino a noi. Allora, Samuele disse quattro cose che io dirò molto brevemente. Non voglio soffermarmi molto. Se tornate all'Eterno, allora voglio dire a qualcuno qui, forse hai lasciato qualcosa per strada. Torna al Signore. Torna al Signore. Torna a pregare con tua moglie. Torna a leggere la Bibbia. Torna a cantare a casa tua. Torna a parlare agli altri. Torna a rifare le cose che facevi una volta. Se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore. E poi togli da mezzo a voi gli dei stranieri. Poi se hai qualche fissazione, qualche ostinazione, toglila. Anzi, se ti capita che qualcuno ti dica qualcosa, prendila come opportunità per manifestare la sensibilità cristiana. Se qualcuno ti dà una spinta, se qualcuno ti chiede qualcosa, anche se ti spetta quella cosa e qualcuno ti supera o ti va avanti, manifesta la grazia del Signore. Qualche volta. Dice l'Apostolo Paolo con tanta gentilezza, patite qualche torto. Fratelli, patite qualche torto. E' vero? Poi, tenete il vostro cuore fermo nell'Eterno. Fermi. Significa, capite cosa significa? Non ha intermittenza. Io credo nel Signore, io mi mantengo fermo nella Sua parola. Fate come ha fatto il fratello Fabio. Fermi nel Signore. Insistete come la vedova. Siate fedeli al Signore. Prendete una posizione. Non pregate pensando, eh ma il Signore non mi risponderà. Il Signore mi risponderà. Il Signore è il mio Dio, il Signore mi ama, il Signore ci aiuterà. E se anche non mi aiuterà, mi aiuterà lo stesso in un altro modo. Non come penso io, ma come pensa Lui. Non è detto che il Signore ti aiuti come pensi tu. Ma Lui ti aiuterà come Lui vuole. Perché la prima persona che trasformerà nell'aiuto sei tu. Sei tu. Sei tu. L'ultima che voglio dirvi a tutti quanti voi. Servite, come dice, a Lui. Perché Samuele non dice servite i fratelli? Perché non dice servite l'umanità? Perché dice servite Lui solo? Vi siete fatti questa domanda? Io sì. Allora fratelli, mi sono dato queste risposte ieri sera. Le sentivo nel cuore. Primo, adora il Signore è Dio tuo. Dall'amore che hai verso Dio nasce il servizio. Dall'amore che hai verso Dio, dall'amore che hai verso Gesù, esce la forza per servire. Quanto più ami Lui, quanto più servi Lui, più hai la forza. Altrimenti ti esaurisci. Perché tutti coloro che non hanno una pienezza del Signore, non la conoscono, hanno bisogno di mangiarti. Vengono a spolparti. Vengono addosso a te come gli uccelli della parabola. Vi ricordate la parabola che disse Gesù che è il granel di senape? Rappresenta la fede e che cresce come un albero su cui vengono a appoggiarsi gli uccelli. Gli uccelli sono tutte quelle anime, tutte quelle persone che si vengono ad appoggiare su di te. E vengono a macibarsi di te perché tu ti sei cibato di Dio. Quello che tu mangi, guardate fratelli, è più facile servire il Signore davanti agli altri che lasciarsi consumare da Dio. Il servizio a volte è un anestetico. Serviamo il Signore pensando di stare al posto con Dio. Non è così. Si serve Dio. Quello che Dio ci dà automaticamente diventa servizio nella nostra vita. E diventa servizio verso gli altri. È vero. Quindi serviamo Lui solo. Servire il Signore significa offrire sacrifici di lode. Perché si chiama sacrificio di lode? Perché anche quando non vuoi cantare, canti lo stesso. Anche quando non ti senti. Quello è il sacrificio. Se a me va tutto bene, mi è facile lodare. Ma se a me va male, e io lo lodo, soffrendo un sacrificio della lode. Ossia sto dicendo, Signore, io sto male, ma ti lodo lo stesso perché tu meriti di essere lodato. Amen. Questa è la differenza, il sacrificio della lode. Quindi lo lodo e manifesto la sua lode nella mia vita. Con gli altri. Allora, fratelli e sorelle. Samuele radunò tutto il popolo a Mizza. Un luogo desertico. L'acqua che poteva servire, il bene primario. Fu offerto al Signore. Il meglio della vita che avevano. Il meglio che avevano. Offrirono al Signore. La parola giudicò lì, Samuele, significa corresse. Samuele corresse il popolo. Cioè, aiutò il popolo a correggersi. E poi sapete cosa succede? Sapete cosa successe dopo al capitolo 7? Leggetelo a casa. Vincerò. Tutti i filistei furono vinti dal popolo di Israele. Dovettero fare, cogliere quattro posizioni. E poi ci fu la vittoria. Vincere senza sacrificio non è vittoria. C'è la vittoria, ma c'è anche il sacrificio prima. Il sacrificio della preghiera, il sacrificio della lode, il sacrificio di abbandonare ciò che tante volte ci lega e poi il Signore risponderà con una vittoria incredibile nella nostra vita in modo che noi possiamo glorificarlo sempre. Amen. Fratelli, termino con questo. Dio vuole che tu vinca. Dio, scusatemi, che Dio sarebbe se non desiderasse che il suo popolo manifestasse la vittoria. Amen. Quindi il principio di Dio è che noi dobbiamo vincere. Pertanto, visto che Dio desidera che noi vinciamo, siamo noi che dobbiamo regolarci in modo da camminare bene e ricevere giorno per giorno e camminare giorno per giorno nelle vittorie del Signore. Ricordatevi Gesù cosa disse? Prima ancora di morire, prima di tutto, fatevi animo, io ho vinto già. Prima che... Fatevi animo, io ho vinto già. Amen. Fratelli, dico la stessa cosa in chiusura. Fatevi animo, abbiamo vinto già. Mettiamo a posto qualche cosa. Mettiamo a posto qualche cosina. Abbiamo vinto già. I nostri nemici, per i nostri nemici c'è solo sconfitta. Per me stesso c'è sconfitta. Nel senso che, rifiutando me stesso, io cammino nella vittoria di Gesù. Questo è il senso. Amen. Grazie. 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 Grazie.